Perché a Napoli? L'idea è nata da un gruppo, inizialmente da un gruppo ristretto di persone stavamo vedendo Zombieland e Walking Dead e a un certo punto è balenato il pensiero ma a Napoli che cosa succederebbe? La peste l'ha buttata a terra? Magari questa malattia l'ha buttata a terra magari morirà metà della popolazione laddove ad Atlanta muovono tutti perché hanno le porte di frassino anche la sicurezza che hanno alcuni paesi del proprio ordine in quel momento poi cade con l'avvento dei morti invece no, a Napoli sta sempre un po' sull'allerta il che in un certo senso ci aiuta in una situazione come questa negli Stati Uniti tu in qualsiasi casa stai trovi arma, beh che facciamo, c'è una serie di zombie vabbè si inuncia a Ciro, prendiamo una pistola e cerchiamo un po' di sopravvivere invece a Napoli no, che trovi Padel, Nugurtill e qualche mazza e per trovare le armi è una bella sfacchinata il che complica di molto le cose ai nostri personaggi all'interno di questa trama così come in altre ipotetiche che potremmo sviluppare